Grazie a tutti quelli che si sono aggiunti da quando ho cominciato. Corrado, a te la parola. Bene, intanto di nuovo ciao a tutti e a tutti. Sono contento di essere con voi, con molti di voi ci conosciamo, diciamo ormai di lunga frequentazione dentro il movimento dell'acqua e non solo. Io, come dire, sto esattamente al tema di stasera e cioè cosa prevede il piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta componente 4 della missione 2 che è quella dedicata appunto alla tutela del territorio e della risorsa idrica. Quindi evito tutto un ragionamento generale sul PNRR che ci porterebbe lontano. Su questo faccio solo una battuta, insomma, questi 200 e passa miliardi di risorse, come dire, sono ispirate un'idea di un forte intervento pubblico che però è tutto finalizzato a sostenere e a creare il mercato e le sue logiche. Questo è il dato di fondo. E in qualche modo questo lo vediamo anche appunto per quanto riguarda i provvedimenti specifici sulla tutela del territorio e sulla risorsa idrica. Adesso direi a Simona, se ce la fa, di mettere l'unica slide che vi faccio vedere che è quella che riepiloga le risorse di questa componente. Ecco, spero che riusciate a vederla. Allora, appunto, questo è quanto prevede il PNRR sul tutela del territorio e risorsa idrica. Come vedete sono complessivamente poco più di 15 miliardi. Peraltro, la cosa da dire, già Mariangela faceva prima un riferimento, diciamo che non è molto chiaro cosa sta succedendo, quali sono le sedi decisionali, come ci si sta approcciando a queste risorse. Ecco, a proposito di poca trasparenza, una cosa che ha fatto il governo Draghi, a differenza di quanto invece è dell'ipotesi del piano che aveva predisposto il governo Conte e che, appunto, a partire da qua non si vede di queste risorse e quanti sono effettivamente le risorse nuove e quanto invece vanno a coprire investimenti che erano già previsti. Io mi rifaccio però, appunto, da questo punto di vista a quanto aveva elaborato il governo Conte, anche perché non è cambiato molto, appunto, dal governo Conte al governo Draghi, questo punto, perché in realtà questi 15 miliardi si riducono a essere, in termini di nuove risorse, poco più, diciamo, di 4 miliardi. A voler essere ottimisti, insomma, siamo tra i 4 e i 5 miliardi di investimenti aggiuntivi rispetto a quanto era già previsto. Io scordo velocemente la slide. Vedete che c'è la voce che riguarda il dissesto idrogeologico, che sono 8,49 miliardi, di questi 8,49 miliardi, in realtà aggiuntivi sono solo 250 milioni. In particolare i 6 miliardi che sono sotto la voce interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni erano già previsti in precedenti provvedimenti di legge. Quindi qua siamo a, diciamo, 250 milioni aggiuntivi. Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, ci sono 4 miliardi e 388 milioni. Qua di investimenti aggiuntivi, di questi 4 miliardi e 3, ce ne sono 3 miliardi e 300. Adesso non sto a dettagliarveli tutti, magari se può essere del caso e ci torno nel corso della discussione. Però, insomma, questo per dire che complessivamente, in realtà, di risorse aggiuntive stiamo tra i 4 e i 5 miliardi. Quindi risorse che dal punto di vista quantitativo non sono propriamente grandissime risorse a disposizione. Poi, adesso se non serve più puoi anche toglierla dalla slide, Simona. Ecco, dicevo, di queste risorse, accanto a queste risorse, poi nel PNRR c'è scritto che si tratta di accompagnare l'erogazione di queste risorse con la realizzazione di due riforme, riforme termine malato, insomma. E le due riforme sarebbero la semplificazione sui investimenti infrastrutturali, che sta dentro, diciamo, tutte le procedure di semplificazione degli investimenti e delle grandi opere, e poi la riforma finalizzata alla gestione industriale del servizio idrico integrato. Questa riforma, appunto, gestione industriale del servizio idrico integrato, come scritto chiaramente nel testo di accompagnamento del PNRR, in realtà vuole fare questa operazione. E cioè, partendo dal dire che ci sono molte gestioni che sono non efficienti, a partire dalle gestioni in economia, che queste sono soprattutto concentrate nel mezzogiorno, che il mezzogiorno non è in grado da solo di intervenire per supplire a questa problematica, si dice, in buona sostanza, che appunto invece bisogna favorire efficaci ed efficienti gestioni industriali, e cioè, tradotto in semplice, costruire e completare il processo di privatizzazione del servizio idrico integrato, soprattutto nel mezzogiorno. Non solo nel mezzogiorno, ma soprattutto nel mezzogiorno. In controluce, quello che si vede chiaramente è che l'idea portante, appunto, per quanto riguarda il servizio idrico, è sostanzialmente quella di favorire il fatto che i grandi soggetti gestori, in particolare le quattro grandi multiutility, e cioè IREN, A2A, ERA e ACEA, possono sostanzialmente prendersi anche al mezzogiorno. Quindi questa è l'idea di fondo. Faccio un attimo un passo indietro. Dicevo, le risorse sono risorse insufficienti, basta dire che appunto, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, risorse aggiuntive, come dicevo prima, sono 250 milioni. ISPRA stima che ci vorrebbero 26 miliardi nei prossimi cinque anni, per fare interventi di una qualche efficacia, oppure, l'altro dato, prendo solo questo, che a noi sta molto a cuore, perché ci abbiamo lavorato molto come movimenti per l'acqua, faccio notare che per quanto riguarda la riduzione delle perdite idriche, sono messe a disposizione solo 900 milioni. Infatti lì si dice che questo intervento dovrebbe riguardare 25 mila chilometri di rete rispetto ai 500 mila oggi esistenti, cioè il 5%. Tutte le stime che vengono fatte, a partire dalle nostre, ma non solo le nostre, dicono che per fare un intervento serio per la ristrutturazione delle reti idriche occorrerebbero qualcosa come 7-10 miliardi nei prossimi cinque anni. 7-10 miliardi perché, come è noto, la media della dispersione idrica è una media che si gira attorno al 40% come media nazionale dell'acqua immessa in rete e che poi si disperde e non arriva. Qua, tra l'altro, ma se si vuole poi possiamo tornare anche nel corso della discussione, se è vero che appunto nella dispersione idrica, nelle perdite delle rete ci sono gran parte delle situazioni diciamo più critiche, si trovano al mezzogiorno, però questo fatto non riguarda solo il mezzogiorno. Ci sono città e regioni che stanno nel centro nord che hanno anch'esse, come dire, percentuali di dispersione idrica molto significativa e in ogni caso molto superiore al 10-15% che dovrebbe essere considerata la perdita fisiologica alla quale bisognerebbe arrivare appunto per fare un intervento serio di ristrutturazione delle reti idriche. Quindi, per concludere questo primo ragionamento in realtà appunto il PNRR sul tema tutela del territorio e tutela delle risorse idriche l'operazione che fa in realtà è quella di mettere a disposizione risorse che però sono insufficienti che non sono indirizzate alle priorità vere in particolare queste due ultime che indicavo intervento contro il discesso idrogeologico e per la ristrutturazione delle reti idriche e soprattutto appunto quello che si ha in mente è completare definitivamente il processo di privatizzazione del servizio idrico con un particolare riferimento al mezzogiorno Mariangela nella sua breve introduzione diceva appunto le risorse sono soggette a condizionalità ecco io mi sento di rafforzare quest'idea sono soggette a condizionalità che però come dire sono condizionalità che si dà allo stesso governo italiano non semplicemente derivano dall'Europa ecco e come si intende fare questo processo di completamento delle privatizzazioni in tutto il mezzogiorno diciamo che appunto sostanzialmente quello che si sta preparando lo si fa diciamo così con quattro mosse il primo è appunto è come costruito il PNRR dove appunto si dice esplicitamente bisogna costruire gestioni industriali efficaci ed efficienti dal punto di vista industriale poi dopo questo che è previsto dal PNRR c'è entriamo diciamo nella parte maggiormente operativa c'è una nota del Ministero della Transizione Ecologica del 20 di maggio che dice la seguente cosa dice che il 70% delle risorse a disposizione dovrebbero essere date ai soggetti gestori entro la fine di settembre di quest'anno quindi in realtà si è già in ritardo ma apro e chiudo parentesi questo fa parte anche del fatto che se detto in pompa magna partiamo partiamo bisogna fare in fretta e quindi ci diamo delle tempificazioni molto stringenti ma io vorrei proprio vedere a che punto siamo di questo 70% di risorse su progetti che devono essere dati ai soggetti gestori entro la fine del mese di settembre ecco che è già passato e si dice 70% entro la fine del settembre 2021 il restante 30% entro il giugno 2022 ma queste risorse possono essere date a soggetti gestori che sono soggetti gestori considerati adeguati e conformi alla normativa quali sono i soggetti adeguati e conformi alla normativa ecco su questo terza mossa interviene Arera Arera spiega per bene che i soggetti adeguati e i soggetti conformi sono quelli che hanno avuto l'affidamento da parte dell'ente di governo del lato e quelli che hanno diciamo che sono soggetti gestori unici del lato stesso ed è questa questa qua guardate di situazioni che risultano non conformi sulla base di questa definizione appunto soggetti che non gestiscono lato in termini di unicità del vaccino e soggetti che non hanno avuto l'affidamento direttamente dall'ente di governo e ce ne sono diciamo una situazione diffusa questa è una situazione diffusa anche qua in particolare nel mezzogiorno a partire dal Molise la Campania la Calabria la Sicilia ma è una situazione diffusa in tutto il paese adesso io ho guardato anche come dire siccome era era fa una relazione molto dettagliata e indica quali sono appunto i soggetti che non hanno questo diciamo così patente di conformità per quanto riguarda per esempio il Piemonte se non sbaglio vengono indicati 17 soggetti gestori 3 sarebbero anzi 9 nel lato 3 torinese 1 nel lato 5 astigiano monferrato e 7 nel lato 6 alessandrino che non avrebbero queste caratteristiche e quindi qua in sostanza si dice appunto qua questi soggetti non dovrebbero avere le risorse a meno che questo si dice ormai entro il 30 settembre appunto è una data che ci ha passata a meno che si mettono in regola entro il giugno 2022 mettersi in regola significa sostanzialmente pensare al fatto di fare nuovi affidamenti di arrivare all'unicità nel soggetto della gestione e arrivare sostanzialmente appunto a creare una situazione appunto di nuova dal punto di vista dei soggetti che gestiscono il servizio idrico insomma non ci vuole molto dire che se in presenza di un meccanismo che ha un elemento in qualche modo ricattatorio o vi mettete a posto oppure appunto bisogna che il servizio idrico venga affidato ad altri facevo riferimento non so alla situazione che c'è nel mezzogiorno in particolare ma dicevo poi anche diffusa da altre parti un esempio per tutti tra questi soggetti non conformi guarda caso ci sarebbe anche ABC Napoli ABC Napoli che come avete presente è sostanzialmente l'unica realtà adesso per fortuna si è giunta a Grigento che ha dato applicazione all'esito referendario e cioè appunto ha trasformato la precedente SPA totalmente pubblica in azienda speciale lì però ABC Napoli anche perché non era ancora stato costituito aveva avuto l'affidamento direttamente dal comune di Napoli sarebbe allo stato attuale un soggetto non conforme e quindi insomma il messaggio che lì si lancia è un messaggio preciso o si fanno nuovi affidamenti o siete fuori anche dalle risorse previste dal PNRR infine sempre anzi penultimo sempre a RERA poi che come dire come sappiamo appunto detta come viene battezzata come agenzia di regolazione tecnica ma di tecnico c'ha ben poco come ben sappiamo sino a partire da quando fissò le tariffe del servizio idrico a RERA con una nota al Parlamento alla fine di luglio si permette addirittura di suggerire al legislatore di cosa si dovrebbe esattamente fare nei prossimi mesi in particolare per quanto riguarda il mezzogiorno in questa nota RERA dice che bisognerebbe fissare dei termini perentori entro i quali l'atto o il presidente della regione procedono agli affidamenti dove le situazioni non sono conformi in più si dice che decorsi questi termini perentori senza che vengano fatti nuovi affidamenti bisogna procedere a un nuovo affidamento per quattro anni a soggetti a controllo pubblico poi passato questo periodo di tempo anzi sei mesi prima che scada il periodo di quattro anni di affidamento bisogna farne uno nuovo o proseguire con quello precedente guardate qua si fa riferimento al fatto di dire appunto o vi mettete in regola in fretta o altrimenti bisogna appunto procedere ad un affidamento a un soggetto controllo pubblico faccio notare che per soggetti controllo pubblico sono considerati anche le grandi multi utility sia IREM che ACEA che ERA che A2A che hanno nella loro compagine nazionaria forti presenze da parte dei comuni ecco quelle per ARERA sono comunque società controllo pubblico insomma io penso che non si tratta di essere malevoli però se uno mette in fila tutte quante queste questioni e cioè appunto il fatto che il PNRR indirizza le risorse in quel modo si dice che i soggetti gestori appunto ce ne sono un certo numero quelli che non conformi che se non si mettono a posto appunto non riceveranno i finanziamenti e che per mettersi a posto bisogna che ci siano termini perentori entro i quali fare i nuovi affidamenti ovvio questa è un'indicazione che ARERA dà non è operativa però insomma non non ci vuole molto a capire quelle che sono le reali intenzioni lungo le quali ci si vuole muovere a completamento di tutto ciò quarto e ultimo pezzo diciamo quarta e ultima mossa siamo in attesa della famosa legge sulla concorrenza legge sulla concorrenza che era annunciata prima per la fine di luglio poi si è detto fine settembre adesso si sta dicendo fine ottobre ecco anche qua lo dico perché poi tra la propaganda del facciamo in fretta facciamo in fretta e poi quello che succede nella realtà appunto non sempre le cose collimano però insomma dalle cose che abbiamo raccolto quello che gira rispetto alla legge sulla concorrenza per quanto riguarda i servizi pubblici locali anche il servizio idrico l'idea di fondo è quella di dare una stretta ancora più forte alle gestioni in aus mettere ulteriori come dire complicazioni sulle gestioni in aus e guardate da questo punto di vista appunto andando anche costruendo anche un meccanismo che è ancora più restrittivo di quello che prevede l'ordinamento europeo perché come sapete all'ordinamento europeo mette sullo stesso piano le tre possibili forme di gestione e cioè la gara la società mista pubblico privata e la soluzione in aus tra società SPA totale capitale pubblico e ente pubblico ecco l'intenzione che si ha per quanto riguarda la legge sulla concorrenza è mettere ulteriori vincoli rispetto alla possibilità delle gestioni in aus vincoli che già ci sono con la riforma Madia del 2016 2017 perché non ci si dimentichi che lì con la riforma di Madia si era scritto che per chi voleva costruire soluzioni in aus sui servizi pubblici bisognava produrre una relazione con la quale si dimostrasse che la soluzione in aus era più efficace e più efficiente del ricorso al mercato ecco con la nuova legge sulla concorrenza in qualche modo si vuole procedere ulteriormente su questa strada apre e chiudo parentesi non è l'argomento di stasera però insomma è giusto per sottolineare come l'impostazione complessiva del PNRR ma io dico anche la linea del governo è quella di una forte apertura ai privati quello che abbiamo visto girare sulla prossima legge sulla concorrenza e addirittura dopo la pandemia quella di dare più spazio alla sanità privata roba che come dire è assolutamente neanche commentabile ecco per tornare a noi insomma questo è un po' il quadro che abbiamo di fronte che è un quadro appunto che fa sì che si vorrebbe completare il processo di privatizzazione non ho bisogno di dire che completare il processo di privatizzazione soprattutto fare costruire il nuovo mercato nel mezzogiorno per le quattro grandi multi utility rappresenterebbe un colpo definitivo rispetto all'esito referendario e che appunto questo colpo definitivo lo si dà sostanzialmente facendo perno alle grandi multi utility si dice appunto bisogna intervenire in particolare nel mezzogiorno perché ci sarebbe questo water service divide cioè appunto un divario territoriale molto forte le cose sono un po' più complesse non stanno esattamente in questi termini però l'idea di fondo è esattamente quella appunto di procedere in modo spedito rispetto alla completa privatizzazione ora rispetto a questo scenario noi appunto come forum italiano di movimento per l'acqua in primo luogo abbiamo riscritto dal nostro punto di vista il piano nazionale di ripresa e resilienza per quanto riguarda gli interventi a tutela del territorio e alla tutela della risorsa idrica in particolare noi nella nostra riscrittura appunto prevediamo appunto invece un intervento in primo luogo per eh la legge per far approvare la legge per la ripubblicizzazione del servizio idrico quindi in direzione esattamente contraria rispetto a quanto prospettato eh approvazione della legge eh della ripubblicizzazione del servizio idrico che come molti di voi sanno abbiamo fatto i conti comporterebbe un costo però una tantum quindi semplicemente iniziale di circa due miliardi poi prevediamo un intervento nei prossimi cinque anni per arrivare a un forte investimento per la ristrutturazione delle reti idriche eh in particolare appunto dieci miliardi dieci miliardi eh che noi pensiamo si possono recuperare sette miliardi e mezzo appunto da questa riscrittura delle PNRR e poi due miliardi e mezzo eh che possono tranquillamente provenire dai soggetti gestori rispetto ai ai profitti che sono stati fatti in questi anni che sono molto significativi eh guardate la cosa assolutamente possibile se ci fosse la volontà politica eh io faccio questo esempio ultimamente che diciamo non è esattamente pertinente però c'entra voi avete tutti quanti presente il forte incremento delle bollette della luce del gas appena decretato eh appunto la cosa non è circolata moltissimo ma a differenza che per esempio del governo italiano la Spagna è intervenuta per azzerare quegli incrementi perché come sapete eh il prezzo del gas è aumentato a livello mondiale ecco il governo spagnolo ha deciso che le bollette per gli spagnoli del gas della luce rimangono quelle del 2019 2020 con mediante la copertura di risorse e anche mediante una tassa straordinaria sulle grandi aziende eh equivalenti alle nostre multi utility ecco cosa che quando ho visto ho detto bene esattamente la strada che noi indichiamo appunto per finanziare un grande piano straordinario per la ristrutturazione delle reti idriche e poi infine noi diciamo bisogna fare un serio intervento per quanto riguarda appunto il contrasto al dissesto idrogeologico prendiamo come riferimento i 26 miliardi indicati da Ispra per i prossimi cinque anni e diciamo che però appunto bisognerebbe esattamente intervenire con una quantità di risorse di questa natura ovviamente siccome il conto che noi abbiamo fatto è un conto appunto parecchio significativo diciamo che oltre alle risorse delle PNRR ci potrebbero essere altre fonti di finanziamento per esempio intervenendo per abbattere i cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi oppure come dire intervenire sulla fiscalità per esempio appunto costruendo una vera tassa patrimoniale e altro ancora però insomma la riflessione che abbiamo avanzato è quella di costruire e di prospettare un insieme di interventi che ha una logica alternativa e che mette a disposizione risorse significative che guarda la ripubblicizzazione appunto e che sul serio potrebbe affrontare i problemi di fondo che ha il servizio idrico nel nostro paese infine e poi mi taccio che l'ho già fatta abbastanza lunga è chiaro che non ci facciamo illusioni sul fatto che la dico così che basti avere buone idee per riuscire in qualche modo ad affermarle perché appunto perché l'intento del governo è di tutt'altra natura insomma e anche per questo come peraltro abbiamo sempre fatto in questi anni pensiamo che appunto che le nostre proposte vadano sostenute anche con l'iniziativa di mobilitazione conseguente in particolare io richiamo semplicemente il fatto che come forum abbiamo deciso di costruire iniziative in tutto il paese in particolare nel mezzogiorno abbiamo detto di fare una sorta di carovana con momenti di discussione di approfondimento di mobilitazione per arrivare poi a una giornata di iniziativa nazionale il 20 novembre con appunto una mobilitazione che si possa fare in specifico non casualmente abbiamo detto a Napoli perché appunto perché riteniamo che ovviamente le idee che avanziamo debbano poi camminare appunto rispetto anche alla capacità di far sentire di mobilitare di rapportarsi con le persone peraltro penso che anche i segnali che abbiamo avuto anche nel mese di settembre insomma penso per esempio alle iniziative che ci sono state a Milano sulla pre-cop alla fine del mese di settembre ma penso anche ad altre iniziative di mobilitazione in particolare penso anche a quello che si è mosso attorno all'avvertenza della GKN a Firenze altre cose ancora io penso ci dicano che comunque siamo dentro una stagione che è una stagione nella quale pur con tutte le difficoltà pur con tutti gli elementi in qualche modo che sembrano andare in altra direzione però io penso ci consegnano in qualche modo l'opportunità la possibilità e soprattutto la necessità di portare avanti anche con le iniziative le nostre le nostre proposte le nostre idee sapendo che queste nostre idee queste nostre proposte io penso poggiano su analisi seria e soprattutto sono in grado di dare risposte ai problemi di fondo che ha il servizio idrico e che pongono le persone in questo paese mi fermo qua grazie a tutti